Quando avete deciso che era giunto il momento di tornare? Ma non ce ne siamo mai andati in realtà, abbiamo deciso di pubblicare un disco perché avevamo del materiale dal pubblicare, avevamo delle idee, avevamo in mano questo Pogo Mixtape Volume 1 che è una mischia selvaggia, è una mucchiata di featuring e di duetti e di canzoni e di vite che si sono incrociate e che sono confluite in questo disco, è un progetto a cui teniamo moltissimo, che ci ha illuminato e che secondo me può essere l'inizio di un nuovo percorso per noi. Anche perché il featuring fino ad oggi lo vedevamo un po' come una cosa strana, noi in tutti questi anni abbiamo fatto una collaborazione con Mondo Marcio, invece lo volevamo vivere in maniera diversa, intrecciando rapporti, imparando l'uno dall'altro e stimandoci perché secondo me alla base di una collaborazione musicale ci deve essere questo, sennò è inutile farlo, è solo streaming. Non abbiamo puntato sicuramente ai follower ma abbiamo puntato a chi potesse condividere un pezzo di strada insieme, chi era già amico, chi stimiamo o chi ha un elemento che per noi è imprescindibile che è l'attitudine. I fan sono rimasti entusiasti di questo ritorno, ve lo aspettavate? Sì, io me lo aspettavo perché, ma non per eccessiva sicurezza ma perché è un momento favorevole per il pop punk, per il punk rock e chi più autorevole di noi per certi versi nel mainstream a riproporre, anche meno, ma che cazzo, una volta, quando sono umile, ma cazzo un po' di sicurezza, quando si è ostenta, è incredibile. Eravamo noi stessi sorpresi ogni volta, chiudevamo un pezzo e ci dicevamo cavolo, ancora non riesco a credere che sia venuta fuori questa roba qua e quando sei sorpreso tu, conosci il lavoro che c'è stato dietro, figuriamoci chi è dall'altra parte se non rimane sorpreso. No, quando abbiamo annunciato tutti i featuring tutti insieme, così schiaffo, è stato potentissimo, immagino, cioè è sorprendente per noi rivedere la tracklist e riascoltare il disco, figuriamoci per uno che non sa cosa abbiamo fatto negli ultimi tot anni che gli arriva in faccia questo poco mixtape. Com'è stato vincere 22 Vest Italia Nuts? Una cosa fuori dal mondo, cioè fuori dall'anno. Ma infatti ce li ritereranno, a un certo punto diranno, guardate, cioè voi, noi il primo abbiamo battuto tipo Tiziano Ferro, Giovanotti, gente così. Il secondo non ce l'ha andato, io la statuetta non ce l'ho a casa, comunque l'ha andata a voi e a me no, io non ce l'ho alla seconda. Chiediamola. Ma forse ce l'hanno già revocata allora. Eravate giovanissimi quando avete avuto un successo pazzesco, come lo avete vissuto e in qualche modo vi ha cambiato? No, abbiamo fatto di tutto per fare in modo che questo fantomatico successo non cambiasse noi. Ha cambiato probabilmente le persone che stavano, tante persone che stavano intorno a noi più che noi. Sì, sono stati anni fuori di testa, totalmente dissennati, dove noi non ci rendevamo neanche conto dei passi in avanti che stavamo facendo grazie alle nostre canzoni, ma a un certo punto quella bolla non ci rispecchiava. Avevamo bisogno di prendere fiato, di rivedere un po' anche i nostri equilibri e quindi diciamo che oggi siamo molto più consapevoli di come gestire determinate situazioni. Molti ragazzi che vi ascoltano da inizi, voi siete stati davvero la dimostrazione che se lo vuoi tutto è possibile, però poi a un certo punto riflettori su di voi si sono un po' spenti. Come lo avete vissuto? Ma abbiamo sfruttato queste ombre, questo buio per ricostruirci, per puntare sul live e per sperimentare, per fare forse quella gavetta che non avevamo vissuto, perché ci siamo formati nel 2002, ma già nel 2006 calcavamo i palchi più importanti d'Italia, quindi avevamo bisogno di tempo per formarci e l'abbiamo fatto successivamente a questa parabola iniziale fulgurante. Abbiamo avuto bisogno di tempo per ricostruirci, per costruirci come band, per migliorare la nostra coesione, per migliorarci e crescere, quindi non abbiamo vissuto male quei momenti, anzi abbiamo cercato di fare di necessità virtù e dal 2016, forse 2017 in poi abbiamo iniziato a raccogliere i propri frutti di quel lavoro intenso durato anni. Nel disco avete numerosi ospiti, come è nata la scelta dei fit? Non è stato semplice individuare, però gli ospiti che abbiamo scelto erano quelli che avevano una caratteristica, ovvero un'attitudine non simile alla nostra, ma un'attitudine forte, un'attitudine punk, che non vuol dire suonare il pop punk o il punk rock, ma vuol dire avere un graffio, avere una personalità e avere qualcosa da dire nella maniera che vogliamo noi, cioè nel senso parlare un po' più o meno la stessa lingua e questi 14 duetti, seppur provenienti da mondi totalmente diversi, hanno dato qualcosa di bello e di omogeneo al disco. Se doveste collaborare con uno più rapper italiani, chi scegliereste? Dipende cosa definiamo per rapper. Togliendogli inarrivabili, perché se parliamo di Marrakesh o di fibra, stiamo parlando di chi il rap lo ha praticamente inventato in Italia, o comunque lo ha portato a un livello superiore, perché il rap nelle loro mani diventa quasi letteratura. Beh, anche Caparezza a suo modo è un altro genio, anche Salmo a suo modo è un altro genio, parliamo di chi ha creato quasi un genere, un sottogenere nel rap, perché hanno uno stile, una penna così personale da essere dei giganti. A me piacerebbe Nitro, mi piace molto, perché è uno che arriva un po' dal crossover, sento che nelle sue robe ci sono i corne, c'è un po' il primo crossover 2000. Poi mi piacciono quelli che vanno veloci, mi piace Shade, che mi ho sempre trovato un extra bit, mi piace che secondo me ha dei tratti comuni, molto punk rock, per certi versi, perché è molto solare anche poi, ed è difficile nel rap trovare qualcuno così sorridente come Shade. Mi piacciono Enzi e Nerone sul progetto Bravagente, ma ci sono tantissimi, adesso ho detto i primi che mi sono venuti in mente. Come descrivereste Poco Mixtape in tre parole? Sole, cuore, amore. Non credo che siano le parole giuste, Pedro, per non dire la prima cosa che ti ho in mente. No, no, sole ce n'è tantissimo, perché cazzo quanta gioia c'è in questo disco, cuore, quanto amore ci abbiamo messo poi qua dentro, la cuore, amore. Quindi sei convinto? Sei convinto di queste tre parole? Sole, cuore, amore. Il 16 ottobre sarete in concerto al forno di Assago, come ve lo immaginate? Se avete un po' di ansia o solo tanta adrenalina? Solo cuore e amore. Ce lo immaginiamo pieno, perché sennò non è il massimo. Ce lo immaginiamo sudato, perché farà caldissimo e perché non è un concerto in cui stare fermi, ma è un concerto in cui muoversi, in cui si... E lo farete anche sulle tribune, ne sono certo. E ce lo immaginiamo emozionante. E qui le diamante. E qui le diamante.